Grande fratello. Nuovo record per Beatrice Luzzi. Non c'è niente da fare. L'edizione attuale del reality condotto da Alfonso Signorini vede l'attrice come la più grande protagonista. I numerosi scontri con molti coinquilini non l'hanno indebolita. Anzi. Il pubblico stravede per lei, anche se la situazione dentro la casa è sempre caratterizzata dalla tensione. L'ultima scena con Beatrice che mette le mani al collo di Giuseppe e non certo in un gesto affettuoso ne è la conferma. Bea ha dato a Garibaldi del burattinaio e l'ex Bidello ha reagito malamente. In una successiva discussione l'attrice, però, ha passato il segno e ha preso il coinquilino per il collo. In tanti, compreso Signorini, hanno condannato il suo gesto. Ora, però, arriva una curiosità proprio subito. Nel corso dell'ultima puntata Beatrice ha raggiunto un curioso record. L'attrice è la concorrente più nominata di tutta la storia del Grande Fratello, comprese le edizioni VIP. Beatrice ha infatti raggiunto quota 80 nomination, superando anche Nikita Pelison che era stata nominata 75 volte. Nonostante il pubblico la adori e infatti risulta spesso la concorrente favorita dai telespettatori, i suoi compagni di avventura continuano a nominarla. In questo momento Beatrice è in nomination insieme a Federico Massaro, Monia La Ferrera e Rosanna Fratello. Uno di loro l'8 gennaio sarà costretto a lasciare.